E' al calare delle tenebre che questo alieno si mostra a noi. Un invasore venuto da terre lontane. Che rischia di mettere in ginocchio la piccola fauna italiana. Una volta calato il sole entrano in attività. Cosa? Si odono in coro i loro grotteschi canti. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info www.mesmerism.info